Entro i primi giorni di ottobre, dice il presidente di Confindustria Bari, Alessandro Laterza, i distretti produttivi nati su impulso della legge regionale varata due anni fa, avranno i loro programmi operativi. Nel frattempo, in occasione della Fiera del Levante, Confindustria presenterà i quattro distretti sorti sul territorio, quello delle infrastrutture energetiche, del mobile imbottito, della meccanica e dell'edinizia sostenibile, in attesa di varare il distretto dell'agroalimentare. È un settore fondamentale per la nostra regione, ma fino a ieri, perché siamo arrivati a un punto invece conclusivo, una proposta di distretto non era nata, per eccesso di ricchezze di proposte paradossalmente. Adesso invece sta nascendo, questo è un altro punto positivo su cui dobbiamo impegnarci molto. Fondamentale per i distretti, dicono gli imprenditori, è il sostegno delle banche. La presenza di numerosi dirigenti di istituti di credito nel giorno della presentazione degli eventi fieristici di Confindustria testimonia il fatto che banche e imprese sono al lavoro a stretto contatto. Già firmato un accordo con alcuni gruppi come Intesa e Unicredit per la moratoria sul rimborso dei prestiti a medio-lungo termine, si attende di estendere la procedura anche ad altri istituti finanziari. Attenzione!